Belgrado, al castello bianco di Dedigne si è recato il nostro generale Ambrosio, comandante della seconda armata, per restituire al generale Barone von Weichs la visita recentemente compiuta in zona d'operazioni. Il generale è stato ospite del comandante germanico. Una parata militare notturna si è svolta in onore del generale italiano.